Ogni giorno immergersi nella realtà che ci circonda significa sintonizzarsi con l'energia vibrante che permea ogni parte del nostro universo. Tutto è energia, tutto è movimento e questa energia ci attraversa e ci connette in modi che spesso non possiamo vedere ma possiamo certamente percepire e sentire. Chi siamo noi se non vibrazioni in movimento? Ogni cellula nel nostro corpo, ogni pensiero nella nostra mente, ogni emozione che sentiamo, tutto vibra a una frequenza unica. Siamo in costante sintonia con il mondo intorno a noi, con il mondo dentro di noi. Questa sinfonia, questa danza di frequenze, crea la nostra realtà. La bellezza di questa legge della vibrazione è che possiamo diventare consapevoli e attivi, partecipanti in questa sinfonia. I nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre azioni, tutto contribuisce alla nostra frequenza vibrazionale. Ecco, ecco perché il nostro stato interno è così cruciale, ciò che pensiamo e sentiamo crea un campo energetico intorno a noi che a sua volta attira e crea esperienze nella nostra vita. Immaginate, i vostri pensieri sono come note in una melodia e la vostra frequenza vibrazionale è la tonalità di questa melodia. Quando sintonizzate il vostro strumento interiore alla frequenza del vostro cuore e dei vostri sogni, la melodia diventa armoniosa e coinvolgente. Ecco perché così è essenziale curare i vostri pensieri, le vostre emozioni e i vostri desideri. La consapevolezza di questa legge della vibrazione è un potente strumento per plasmare la vostra realtà. Immaginate che ogni pensiero positivo che coltivate sia una nota armoniosa che si unisce al coro dell'universo e ogni volta che coltivate gioia, amore e gratitudine, la vostra melodia personale diventa più luminosa e radiante. Siate intenzionali nei vostri pensieri, nella vostra energia e nell'energia che attirate nella vostra vita. Sappiate che siete artisti e musicisti della vostra realtà e la vostra frequenza vibrazionale è il vostro strumento. Ogni giorno cercate la connessione con voi stessi, con il vostro corpo interiore. Questa pratica vi renderà più forti, più consapevoli e in sintonia con la melodia dell'universo. Ricordate sempre, siete parte di un'orchestra cosmica e le vostre vibrazioni influenzano l'intero spettro dell'esistenza. Create armonia nella vostra vita. Lasciate che la vostra frequenza personale risuoni con amore, gioia e gratitudine. E così, insieme, possiamo contribuire a rendere il mondo un luogo vibrante e appassionante. Grazie per aver ascoltato queste parole. Vi invito ad abbracciare la vostra energia, a lasciare che la vostra melodia personale risuoni e a creare una realtà di bellezza e ispirazione. Grazie. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, condividi ed iscriviti al canale. E ti aspetto per il prossimo video. Ciao, grazie.